Premetto che le sentenze, i provvedimenti dei giudici vanno eseguite e vanno rispettate, tanto di cappello, però in un Paese democratico è possibile dissentire e sinceramente non condivido neppure una virgola di quello che è il provvedimento del Tribunale del Riesame che concede la facoltà d'uso a DAFO II. Devo dire che ero convinto che ci sarebbe stata data la facoltà d'uso perché avevo visto che i tempi si stavano allungando, ma in ogni caso ritengo il provvedimento assolutamente illogico e potrebbe anche essere foriero, potrebbe anche determinare una serie di situazioni gravissime perché a mio avviso AFO II è un catorcio, è una struttura pericolante che potrebbe crollare da un momento all'altro e quindi a mio avviso i pericoli sono gravissimi. Ovviamente è una scelta dei magistrati, tanto di rispetto si assumono ovviamente le responsabilità di quanto hanno deciso. Intanto io dico che il povero Alessandro Morricella si starà così rivoltando nella tomba per un motivo molto semplice, perché quelle condizioni per le quali il Morricella è morto permangono e permanendo altri casi Morricella potrebbero verificarsi. Cos'è cambiato? Nulla. Motivo per il quale io non comprendo come sia stato possibile concedere la facoltà d'uso. Questa storia poi della facoltà d'uso, del sequestro con la facoltà d'uso a me è una cosa che fa ridere, perché o si sequestra o non si sequestra, ma sequestrare e concedere la facoltà d'uso significa non sequestrare di fatto. E poi guardate l'illogicità. Se io cammino con la mia automobile e la mia automobile non ha superato il collaudo e vengo fermato dalle forze dell'ordine, dalla polizia, automaticamente la macchina mi viene bloccata, perché magari i freni non funzionano e quant'altro. Non mi si dice tu continua a camminare, a circolare, ti diamo un termine entro il quale potrai fare il collaudo e quindi mettere a posto la macchina, però tu puoi continuare a camminare. Questo non si verifica da nessuna parte. Ti sequestrano la macchina e non ci sono santi che tengano. Così non è per AFO2, perché si dice AFO2, ora c'è un termine, mi pare entro 14 mesi dovrebbe esserci il completamento dei lavori, se ci sarà mai, però nel frattempo AFO2 può continuare la propria vita, può continuare a produrre. Cosa, ripeto, assurda, perché un'auto si sequestra, un'auto senza collaudo, e invece ad AFO2 si consente di uccidere a questo punto, perché AFO2, a mio avviso, è una realtà mortifera, portatrice di morte, come è accaduto per Morricella. È un provvedimento, ripeto, che io non trovo davvero aberrante. È davvero misterioso, inconcepibile, che mentre Maccagnano ha detto io non posso dare la facoltà d'uso, perché ILVA in questi anni, da tre anni a questa parte, non ha fatto nulla per ottemperare a quelle prescrizioni imposte per AFO2. È stato fatto poco nulla, sostanzialmente nulla, e chissà perché, non lo riesco a capire, il Tribunale del Riesame dice, diamo altre 14, a scadenze ci sono degli scaglioni, 9, 10, mi pare 14 mesi, per continuare i lavori. Una continuazione ad infinitum, così come i pericoli e le morti a questo punto saranno ad infinitum. Il povero giudice Maccagnano, quello che aveva appunto negato la facoltà d'uso, purtroppo è rimasto isolato. Tanto di cappello a Maccagnano. Per me Maccagnano è un eroe e vorrei stringergli la mano quanto prima. e già la procura era di opposto avviso rispetto a Maccagnano, ora il Tribunale del Riesame ha prodotto un risultato opposto a Maccagnano. Che dire, non riesco veramente a darmi pace, darmi pace perché qui si continua a morire. Ci sentiamo soli, ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo soli anche rispetto alla magistratura. Ci sono poi i sindacati della triplice, Fim, Fium e Wilm, che ora esulteranno perché il signor Palombella, segretario nazionale della Wilm, aveva avuto il coraggio di esclamare se ci sarà il sequestro, quindi se non verrà concessa la facoltà d'uso, sarà una tragedia. Ma quale tragedia Palombella? La tragedia è dei poveri Cristi che per 1200 euro al mese buttano il sangue e muoiono nello stabilimento, muoiono a causa di Afo 2, come è capitato per Morricella. Queste sono le tragedie, caro Palombella. Le tragedie sono le persone che si ammalano di cancro, lo vuoi capire o no? Non un Afo 2 che è un catorcio e che va chiusa, va distrutta quanto prima. Questa è purtroppo la realtà di Taranto. Quanto alle associazioni ambientaliste, io dico sì, effettivamente benvengano le manifestazioni che si fanno a Taranto, però oramai, pur rispettabilissime, ormai non hanno più senso. Perché quando sono iniziate nel 2009 e siamo arrivati al 2020 e ogni anno facciamo e rifacciamo le stesse cose, quando si fa la marcia per l'ambiente, come la si è fatta nel 2019, a febbraio mi pare, così altrettanto si farà nel febbraio prossimo 2020, alla fine che cosa facciamo? Non otteniamo nulla. Bisogna manifestare a Roma, bisogna svegliare le coscienze intorpidite dolosamente di questo governo che evidentemente ha condannato a morte Taranto. Vedete, sono arrabbiato ma non sono affatto stupito della decisione perché era nell'aria, perché lo avevo capito, perché la realtà è una sola, è che lo Stato italiano vuole che Ilva e Arcelor Mittal producano e quindi a questo punto, diciamocelo, lo Stato italiano si rende complice degli omicidi, perché un governo che consente ad Arcelor Mittal di uccidere è un governo parimenti assassino quanto Arcelor Mittal o Ilva che dir si voglia. Ripeto, io rispetto le decisioni della magistratura. Le decisioni della magistratura vanno eseguite ma mi sembrano assurde, mi sembrano che siano in assoluto contrasto con il diritto alla vita, alla salute e alla sicurezza. A Taranto si continua a morire come Moscerini, è all'interno e all'esterno dello stabilimento. Non starò fermo, con le mani in mano, perché evidentemente l'attività giornalistica è importante, serve l'attività di denuncia. Ora verranno questi altri pagliacci dei ministri, il 17, verranno a fare un'altra pagliacciata a Taranto, ma non serve a nulla, l'attività giornalistica poi diventa fine a se stessa. Bisogna andare oltre, dobbiamo creare qualcosa, un movimento di opinione, Taranto senza Ilva, qualcosa che davvero smuova le coscienze e scenda in piazza o in campo se sarà necessario. Che tristezza questo verdetto, ma lo sapevamo, come dire, era una morte già annunciata. Alessandro Moricella riposa in pace, sarà in paradiso, nel regno dei giusti. Immagino la sofferenza dei suoi familiari e immagino la sofferenza anche di tanti operai che rischiano di fare la fine di Moricella. Io sto con Macagnano e non sto certo con il Tribunale del Riesame. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.